Bella raga dal vostro Zcastle, bentornati alle video recensioni del Trono del Re, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate commenti, condividete, tutto quello che volete, basta che non vi perdiate manco un video. Il fumetto di cui vi parlo oggi è The Boys, cara Becky, ovvero il prequel di The Boys, di Gart Ennis, Derrick Robertson e Ross Brown. Boom! The Boys, la serie tv Amazon Prime, non ha bisogno di molte presentazioni, è stato un successo, ha acquisito una popolarità notevolissima, portando sullo schermo in effetti qualcosa a cui il pubblico più di massa non era certo abituato, quantomeno in tema di supereroi. E pensare che l'opera di Gart Ennis, Derrick Robertson, era passata, come accade in realtà un po' spesso, abbastanza insordina nella sua prima pubblicazione italiana, nonostante la fama del suo autore, Gart Ennis. Con The Boys, cara Becky, ci troviamo di fronte al vero prequel a fumetti della serie, un prequel raccontato a modi flashback dal solito Yui, ben 12 anni dopo la conclusione del fumetto. 12 anni dopo, per raccontare però il prima, ovvero il passato di Billy Butcher, vabbè, un po' di casino, adesso sistemiamo tutto, ok? Quindi dopo la conclusione di The Boys, Yui si è ritirato a vita privata in Scozia con la sua adorata Annie, Starlight, ma di sposarsi non se ne parla assolutamente. Ed è un equilibrio, se così vogliamo chiamarlo, che tutto sommato regge abbastanza con Annie January, che non vuole intromettersi troppo nella vita e soprattutto nei ricordi del suo fidanzato e nel trauma della sua militanza nei Boys, che ancora assolutamente non si è placato. E se avete letto il finale di The Boys, sapete che intendo e ovviamente non lo rivelerò assolutamente qui. Questo fino al momento in cui viene recapitato al nostro piccolo Yui un diario, un plico contenente un diario, che fin dalle prime pagine si rivelerà essere il diario di Becky Butcher, ovvero la moglie di Billy Butcher, camposquadra dei The Boys, assassinata da patriota e motivo che poi ha scatenato la furia di Butcher stesso e la vendetta dei Boys. E il diario è proprio scritto in prima persona da Billy Butcher stesso, che inizierà a raccontare una storia terribile, una storia fatta di sangue, ovviamente, e cospirazioni, di macchinazioni politiche, di insabbiamenti, una storia che inizia, tra l'altro, in un modo raccapricciante, nel ricordo di ciò che è stato Becky nella sua vita e cosa è diventato lui dopo la sua perdita. E come parte la storia? Parte con i Boys, che nelle primissime pagine catturano un ragazzino, lo immobilizzano e gli mozzano la lingua, dato che in realtà è tipo un supereroe con la capacità di trasformarsi. Shazam! Yui inizierà la lettura di questo diario e le confessioni di un Butcher disperato, sempre più sprofondato nel turbine della violenza e della folia della vendetta, lo sconvolgeranno assolutamente. Un Butcher che, assieme al francese, il latte materno, la femmina della specie, e sotto la guida di Mallory, il primo capo dei Boys, si mischierà sempre di più nella nascita di un nuovo supergruppo decisamente ambiguo, o gli scandalo, che sembrano alla base di una sorta di scissione all'interno della Vought International. I Boys sono quindi il deterrente per far rigare di dritto i dannati super come Vichor e i figli di Stormfront, tra l'altro Stormfront tornerà in questa storia, oppure solo a loro volta delle pedine in un disegno più grande. Ebbene, in Karabeki approfondiremo il personaggio di Butcher e il suo dolore personale. Magar Tennis riuscirà, nel contempo, a fotografare anche in maniera più attenta la figura di Yui, ancora tormentato dal fantasma del suo vecchio comilitone e delle, diciamo, situazioni che hanno dovuto vivere assieme. È alle prese con una relazione personale, quella con Annie, che non si può certo definire ancora del tutto serena. Tanto che la lettura di questo diario ti nascosto lo porterà ad entrare in una sorta di crisi personale assolutamente seria. E cosa più incredibile, Gar Tennis riesce anche a fare un parallelo con la situazione mondiale della pandemia esplosa nel 2020 e a collegare il tutto addirittura ad eventi come la Brexit e contestualizzarla anche a livello sociale, cosa veramente notevole. Rimane tutta la cattiveria e la potenza narrativa di The Boys, con i suoi eccessi e le situazioni iperviolente, grottesche, e al limite a volte anche del tragicomico, ma anche un'analisi sociale, secondo me, attenta, non sterile e banale, riguardo anche ad un'attualità sempre importante. Parliamo dei disegni, intanto. Russ Brown mi piace molto, l'artista che si è alternato a Derek Robertson e John McRaeha nel corso della serie. È un disegnatore così caratteristico che difficilmente lascia indifferenti. Quindi tendenzialmente lo si ama o lo si odia, ma per me The Boys è abbastanza inscendibile dal tratto suo e da quello di Derek Robertson, che peraltro hanno molti punti in comune, dettagliato come tratto particolare, con una sorta anche di malizia e vago sentore di lussuria di fondo sempre presente nelle tavole. Infatti le sue scene di sesso, con quelle espressioni, sono un po' strane e grottesche, sono abbastanza difficili da dimenticare. Valorizzati anche da colori di Tonya Vigna per riunire un po' il vecchio cast creativo. Non so dire se questo prequel sia frutto del successo della serie TV di Amazon Prime di certo, è il prequel che non ci si aspettava. È grottesco, è ricco di humor nero, ma non come le prime fasi del fumetto originale, ok? Soprattutto come ci è stato un po' insegnato. E forse è come dice Eric Kripke, che è lo scrittore e produttore della serie TV. Questo fumetto è una storia d'amore. Folle, deviata, disperata, però vivida nei sentimenti che Butcher ha provato per Becky e nella disperazione che poi ne è conseguita. È un bel mattoncello da leggere, da tratti forse anche un po' eccessivamente lungo nei dialoghi e nel tenore degli stessi, ma di certo non è banale. C'è meno azione e più considerazioni, più dialoghi. È questo doppio filone narrativo, cioè il passato di Butcher e il presente di Yui, che sono veramente interessanti. È il prequel, secondo me, per chi ama il fumetto. Non esplosivo e pop, come ci si potrebbe aspettare dagli eccessi che abbiamo visto nella serie TV, che sono tra l'altro edulcolati rispetto al fumetto, ma decisamente più profondo e serio. Io ve lo consiglio, ma attenzione perché non è detto che troviate quello che vi sareste aspettati di leggere. Ci sono molte meno risate a denti stretti e più momenti grottescamente commoventi. Comunque questo è The Boys Carabecchi di Gartenis, Derek Robertson con i disegni di Ross Brown, il prequel di The Boys costa 21 euro, pubblicato da Panini Comics in formato cartonato. E se volete saperne di più, ragazzi, abbiamo scritto un sacco di articoli su tutta quanta la serie. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, lasciate un bel commento, un pollicione e a presto. Ciao!